Ma perché io devo fare efficienza? Per quale motivo devo investire se poi il risparmio non è tanto e soprattutto non è interessante per il mio business? Noi abbiamo sempre fatto con il nostro elettricista e a volte anche con l'idraulico. Ecco, queste sono sempre le classiche frasi che io sento dire quando propongo gli interventi di efficienza energetica. Bene, bravo, nulla da dire sul lavoro dell'idraulico e sull'elettricista, ma qui si sta parlando di altro, di una cosa più grande che va oltre il tubo dell'acqua della caldaia o l'interruttore della luce. Certamente anche io chiamo l'elettricista l'idraulico, ma quando ho bisogno di fare manutenzione è qualcosa che non funziona. Oppure se devo fare un lavoro di efficienza energetica ma dopo averlo fatto progettare da un esperto in materia. Ma quando si tratta di soldi o di risparmio che porta soldi, non penso affatto di considerare la faccenda come una normale manutenzione. Pertanto rifletti, abbiamo sempre fatto così, non porta da nessuna parte. Se tutti facessimo sempre le cose allo stesso modo, come potremmo sperare in una situazione migliore? Ormai è evidente che le cose allo stesso modo hanno dimostrato di non essere efficienti. Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e ci vediamo la prossima.